o raga per fare un video sono al cimitero pensate voi che giornata che ho avuto allora è il suo momento raga è il momento anche per lui di dimostrare quanto quanto vale cioè se abbiamo preso un cazzo di bidone o se è davvero il prospetto che noi tutti in realtà speriamo che sia però prima di parlare di questa cosa voglio ringraziare davvero tutti perché ieri abbiamo fatto davvero una live grandiosa spettacolare sono stato davvero contento voglio ringraziare the doc tor juventus matte perché è stata davvero una live interessante se vi va andate a vederla ci siamo divertiti e tutto allora come tutti sapete è stato convocato dalla nazionale under 21 chiamatelo come volete de catteler de cazzola de catetere ed è il suo momento de catteler è il tuo momento è il momento di dimostrare davvero quanto vali perché all'europeo non ci sono scuse di timidezza non giochi contro ragazzi di 30 anni giochi con ragazzi della tua età non ci sono scuse di ambientamento non ci sono scuse ed è una vetrina importantissima per giocatori che magari in questa stagione hanno fatto male e io me lo auguro davvero di tutto cuore che sia la stagione che sia l'europeo di de catteler però lo guarderò lo guarderò interessato perché davvero voglio capire se non c'è più neanche una possibilità che questo cazzo di calciatore sia un talento perché parliamoci chiaro se de catteler mi fa panchina quasi tutto l'europeo vuol dire che è un bidone se invece lo fa la protagonista ci si accende quella speranza che noi tutti vogliamo che sia davvero un prospetto che dobbiamo portare pazienza accudirlo fallo crescere sostenerlo poi delle volte si scherza come giusto che sia però io sono molto preoccupato perché 35,5 milioni sono tanti e spero davvero che non abbiamo preso quel cazzo di giocatore che l'abbiamo visto che abbiamo visto fino ad oggi c'è un bidone dell'umido speriamo sono curioso de catteler noi ti sosteniamo speriamo che tu possa davvero dimostrare il tuo velovalore in questi europei oggi la gazza dice che de catteler non è incedibile non lo so non lo so non lo so se è una notizia fondata io io dico che gli darei questa opportunità questi europei poi vediamo se dovesse arrivare un'offerta giusta sinceramente io ci penserei ci penserei perché ne ho visti tanti di giocatori passare in questo mila ma io uno così scarso cioè davvero io non l'ho mai visto dopo sono io il primo a dirvi che se dovesse fare una grande stagione sarei stra felice gli chiederei perdono in ginocchio però oggi come fai a commentarlo positivamente detto questo notizie di mercato ieri hanno fatto il nome di di assenzio rispunta assenzio a zero non vado tanto oltre al commentare questi giocatori perché lo sapete come la pensa come la penso assenzio tillerman kamada questi giocatori che sono a zero io li porterei tutti in casa semplicemente perché abbiamo un'urgenza cioè rinforzare la panchina e quindi se prendiamo questi tre giocatori a zero tu e mandiamo via i bidoni come bakayoko come per me è crunic che per me è limitato come altri come sala maker come messias e li rimpiazziamo con questi giocatori sicuro facciamo già un rinforzo senza spendere niente poi tu ci inserisci lufto check benissimo quello lo devi pagare però se fai tre acquisti che sono più forti dei giocatori che tu hai in rosa senza spendere un euro solo l'ingaggio raga sono affari affari d'oro quindi proviamoci però a oggi si sparano solo un sacco di nomi ma bisogna ancora valutare tante cose prima c'è da finire un campionato che non è scontato perché qua tutti ridono e scherzano siamo andati in sempre un cartone mica cartone non se ne ancora in sempre in sempre un c6 con la matematica e soprattutto dobbiamo provare a conquistare il terzo posto fino all'ultima giornata quindi testa a mila a juventus mila e poi testa a milan verona si tirano le somme e nel frangente vediamo come lavora la società perché ovvio che non devi aspettare metà giugno a fare i parametri zero i parametri zero ti devi prendere adesso è questo il periodo che poi i contratti si depositino a luglio è un altro discorso ma è adesso che si chiudono le trattative raga sempre forza milan ci vediamo stasera e buona giornata a tutti